Gesù però mi è mancato un caldo a caso se mi manca un caso al finito e beh ma la musica cambia pronto? a proposito di batteri nocivi non nocivi ma sui bambini è su caso non è meglio Caterina guarda Caterina eccolo qua ah si Caterina si si Caterina devi sapere che ce ne sono tante nel mondo che mi prende all'improvviso allora stasera se non vengo io viene Gianni a che ora è l'aereo a che ora è? perfetto ecco siccome va bene va bene dillo che non mi dia subito il colpo di telefono perché se va un mio amico così passo il numero capito? ok e poi come riconosco tua figlia? bionda con gli occhiali o occhi celesti bisogna andare vicino guarda che schifo eh eh se parliamo di Sardegna non parliamo di queste cose va questa è tutta roba naturale mmmm noi sardi mangiamo i vermi siamo abitati che i vermi devono sparire dalla circolazione quindi noi ce li gustiamo mmmm assaggiamo l'interno va questo non se ne trova a Los Angeles eh guarda il nido qua che schifo bucciraglio va che schifo questa cosa guarda lo facciamo mangiare a zio Gesuino questo guarda si siamo qua che la vogliamo pronti ciao ciao ti piacciono i vermi Gesuino ciao 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 più raffigurazione sarda di questa ah ma si eh si io mi voglio sempre eh no no non c'è problema eh ma nooo ma questo le rame scasubrazi eh eh chiaro però si andava fino a caso marzo ho dovuto usare un po' dei pizzi ma caso marzo guarda guarda qua guarda qua guarda qua guarda qua guarda qua guarda qua mmmm 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 che spettacolo mmmm 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 guarda qua guarda qua guarda qua l'appetitivo l'abbia bevuto ricco su guzu te lo dici salta no? uno guarda questa gara di amistate questa gara di amistate della nostra eh